Una giornata speciale, caratterizzata prima da temperature rigide e poi da un limpido sole, ha accompagnato la cinquantesima edizione della Camignada Possier Rifuge, organizzata come da tradizione dalla sezione CAI di Auronzo. 500 i concorrenti al via che si sono sfidati lungo il classico tracciato di 33 km che dopo il via dalle sponde del lago di Misurina tocca Malgarin Bianco e Rifugio Auronzo, Lavaredo, Locatelli, Piani di Cengia, Comice e Carducci per poi snodarsi lungo la Val Giralba prima della prodo finale sulle rive del lago di Auronzo. A vincere l'edizione 2023 il calaltino Gabriele Del Longo, portacolore della Bergamasca alla Re Castello Radici Group che ha portato a termine la gara in 3 ore 13 minuti e 25 secondi davanti allo zeldano Luca Mosena e a Lorenzo Paes Bianco. Dura però, come dicevo prima, panorami incredibili. Ogni tanto mi sono concesso l'uso di guardare il panorama e solo quello valeva la pena della fatica. Per quanto riguarda la gara ho cercato di gestirla un pochino sapendo il finale inciclabile che non perdona. Tra le donne la vittoria è andata alla Ligure ma residente a Schio Francesca Costa che con il tempo di 4 ore 10 minuti e 51 secondi ha battuto Martina De Mas e Valentina Bernasconi. Di solito io non sono portata per le gare così corte e veloci, però è stata talmente bella e si vede che ho trovato una giornata fortunata. È stata veramente bellissima, una bella gara, un bellissimo paesaggio e mi sono divertita un sacco. Il giorno prima la camminata ha vissuto l'ormai tradizionale prologo dedicato ai più piccoli, una settantina agli under 13 che si sono dati battaglia sul tracciato di 3 km attorno al lago di Auronzo. Noi dobbiamo come sempre ringraziare sia e soprattutto i volontari ma anche l'amministrazione che ci affianca per tutto quello che riguarda le strutture e l'assistenza anche lungo il percorso e poi le edizioni che adesso sono state un po' compresse come numero torneranno presto ad essere anche più numerose. Pensiamo che nei prossimi anni si possa anche aumentare il numero dei partecipanti.